Siamo in compagnia di Mattia Muratore, giocatore di Powerchair Hockey, campione d'Italia, neocampione d'Italia e campione mondiale nel 2018. Capitano e presidente degli Sharks Monza. È qui al Festival della Cultura Paralimpica per presentare il suo libro Sono nato così, ma non ditelo in giro. In questo titolo riassume, credo, un po' tutto. Cosa volevi comunicare, cosa vuoi comunicare con il tuo libro? Ma sai, io ho provato a raccontare un po' quella che è la vita vera di una persona con disabilità motoria in Italia nel 2022 e per farlo ho utilizzato molto la ironia che ho voluto mettere anche nel titolo. Comunque, una delle prime domande che abitualmente vengono fatte a una persona con disabilità motoria quando ci si conosce è sempre sei nato così, quasi come se dietro ci fosse una morbosa curiosità di capire, sapere per quale motivo tu sei in carezzina, comunque hai una qualche forma di disabilità. Allora io ho voluto tranquillizzare i lettori, ho detto, lo mettiamo già nel titolo, così almeno ci togliamo il problema. Però poi avevo bisogno di una chiave ironica, di una frase che appunto facesse intendere fin dal titolo l'impronta comunque ironica del libro e allora ho aggiunto questa ulteriore frase che è sì, ok, io ve lo dico, però tenetevelo per voi, insomma. E allora questo libro ha anche una struttura molto particolare, puoi descrivercela? Ma è un libro di racconti, un libro di racconti dove ogni racconto ha la sua autonomia, la sua storia, i suoi personaggi, il suo mood. Sono racconti magari un po' più ironici, racconti un po' più antisentimentali, racconti che magari fanno arrabbiare un po' di più, altri che fanno ridere. Insomma, ogni racconto è un mondo a sé, però poi letti tutti insieme comunque danno vita a un discorso comune, a una storia comune. A me, dato che sono un grande appassionato di musica, soprattutto di musica rock, mi piace definirlo, un concept book, poi in onore ai vecchi concept album che si facevano negli anni 70, ecco. Poi dove ogni parte del libro va per conto suo, ma alla fine poi c'è un discorso uniforme. E quanto c'è di autobiografico dentro questi racconti? Allora, sicuramente ci sono tante cose che ho vissuto direttamente, altre che magari a cui ho assistito, altre che magari mi sono state raccontate, però diciamo che quando si racconta un qualcosa che si è vissuto direttamente, il racconto stesso sicuramente viene avvantaggiato, perché comunque si ha un ricordo diretto di quello che si vuole raccontare. Però non è la mia autobiografia e ci vengo a dirlo perché tanti la spacciano per questo, ma in realtà è una cosa un po' diversa. È un libro che vuole proprio raccontare la vita vera di una persona con miserabilità motoria al giorno d'oggi. Ecco, parlavi di musica e questo libro è anche la perfezione di Luciano Ligabue. Come è nata la tua conoscenza con uno dei più sicuramente famosi e importanti cantautori rock italiani? Ma guarda, io seguo Ligabue da sempre da quando ero bambino e ho avuto la fortuna di incontrarlo per conoscerlo per altri progetti e la sua musica mi ha sempre accompagnato in ogni momento importante della mia vita e quando la mia editor mi ha chiesto appunto se avessi qualche pensiero in merito alla prefazione io ho subito detto, o Ligabue o Messina, non vedevo un'altra persona adatta a fare questa cosa per il mio libro, per i messaggi che intiene e anche un po' per il tono, per l'imponto in cui è scritto che sicuramente in parte riprende un po' il modo di scrivere anche di Ligabue perché essendomi nutrito della sua arte, della sua scrittura per tutta la vita, per osmosi sicuramente qualcosa poi ho raccolto. Non possiamo non chiudere con lo sport, siamo al Festival della Cultura Paralimpica quindi ho una domanda sullo sport e te la devo fare. Quali margini di sviluppo ci sono ancora per la tua disciplina, per il power chair hockey in Italia? Sicuramente tanti, anche se comunque è una disciplina che io faccio questo sport da 25 anni quindi ho iniziato che c'erano pochissime squadre, eravamo proprio agli esordi adesso è una disciplina molto diffusa, ci sono una trentina di squadre, c'è la nazionale che comunque nel 2018 ha vinto il campionato del mondo nel 2016 aveva vinto la medaglia d'argento agli europei, è ormai una realtà affermata a livello internazionale ma sicuramente si può ancora crescere, fare di più, svilupparsi ancora meglio perché comunque è uno sport veramente bello, appassionante, divertente che vale la pena provare e vale la pena anche venire a vedere perché davvero è molto entusiasmante. Grazie mille Mattia e complimenti per il tuo libro e in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie a voi. Grazie.